amici di youtube ben trovati a marco liguri è morto pochi minuti fa un grande personaggio un personaggio che ci rievoca straordinari ricordi e prima di sapere di più vi ricordo che a 400 like pubblicherò immediatamente un nuovo video in questo video parliamo di una triste notizia che ha colpito il mondo dello sport ci lascia un personaggio che abbiamo apprezzato in italia soprattutto nei primi anni 90 e con grande dispiacere che il prima di marco liguri annuncia la dipartita del ex lottatore professionista michael jones che tanti in italia ricorderanno per aver combattuto con il nome di virgil era il maggiordomo di teddy biase lo abbiamo conosciuto come detto nei primi anni 90 era un personaggio che ha fatto appassionare tanti fan di wrestling il prima di marco liguri con grande dispiacere ricorda michael jones in arte virgil ex lottatore mancato nelle scorse ore l'uomo è scomparso a 61 anni amici di youtube io vi ringrazio per l'attenzione del vostro commento iscrivetevi al canale condividete questo video ciao a tutti